Compra vendita in calo di circa il 10% rispetto a un anno passato favorito da spinte e bonus, mentre aumenta il prezzo medio degli immobili in provincia di Varese, specie nel centro del capoluogo, Saronno, Buster Sizio e Gallarate, con quest'ultima città che fa da Bari centro a una delle aree più competitive, complice alla buona qualità dell'offerta. Gallarate risponde perché ha prodotti di questo tipo come anche il circondario. Il Cardano risponde molto bene, Cardano al campo è una cittadina che risponde molto bene, Cassano Magnago, Samarate, tutti gli intorni rispondono molto bene come anche su Melombardo perché comunque si vive l'influsso di Malpensa. Come accennato le compravendite premiano soprattutto le zone centrali e servite a conferma di quanto la mobilità rappresenti un elemento chiave. Il problema della mobilità per Varese città è un problema grosso e la gente ormai questo l'ha capito e sta acquistando nelle zone dove ci si muore meglio, più servizi, più assistenza e tutto. Sul fronte delle seconde case di vacanza o da affittare, importanti segnali arrivano dal Ceresio che vede in aumento i prezzi al metro quadro ma a farla da padrone resta il Lago Maggiore con l'Aveno Maccagno e una gemma incastonata nella sponda lombarda. Soprattutto Aranco che forse è il paese più richiesto della provincia di Varese. Tornando al sud, Buster Sizio mostra segnali significativi, soprattutto per la messa a reddito degli immobili. Forse un rallentamento sugli immobili degli anni 50-70 dove sono concentrati principalmente nelle zone centrali per andare a investire invece su immobili di piccole dimensioni, più facili da affittare per sfruttare al meglio questo momento particolarmente interessante per le locazioni. Se guardiamo i costi, Varese centro veleggia sui 3.500 euro al metro quadro, Luino sui 3.400 euro in più di buste gallarate. Prezzi di gran lunga inferiori rispetto alla grande e proibitiva Milano dove si arriva a toccare quota 11.265 euro. Un dato che spinge il presidente Vitiello a due considerazioni. La prima, Varese, può giocarsi un'attrattività che nei pressi della metropoli abbina bellezza e risparmio. Secondo, benvengano le comunità energetiche, foriere di meccanismi virtuosi già considerate un volano. Nei prossimi anni, io spero anche prima, chi avvicinerà il mercato immobiliare per l'acquisto di una casa si abituerà a chiedere anche se quel contesto è all'interno di una comunità energetica.